È un sistema di economia circolare che prevede il recupero dello scarto organico delle varie industrie agroalimentari e la loro valorizzazione come substrato per l'allevamento dell'insetto. In questo modo andiamo a ridurre il peso dei rifiuti e attraverso l'allevamento otteniamo un prodotto altamente proteico da destinare alla nutrizione dell'animale. Ho deciso di partecipare a questo percorso per fare rete e confrontarmi con altre imprenditrici e allo stesso tempo mi ha permesso di ripercorrere un po' le scelte e le analisi fatte fino ad ora e mi ha dato la possibilità di individuare invece degli aspetti che prima precedentemente non avevo considerato. Sicuramente adesso stiamo puntando a sviluppare e a ampliare l'azienda quindi è sicuramente utile per contribuire alle spese del 2024.